Sei in procinto di sposarti? Devi arredare casa e non sai di chi fidarti? Da oltre 40 anni, Dotolo Mobili, grazie ai suoi 4 punti vendita e ai suoi 40 arredatori specializzati, aiuta i propri clienti a rendere uniche le loro abitazioni. Due grandissime novità! Scarica la nostra app per rimanere sempre aggiornato sulle nostre offerte e visita i nostri punti vendita per riterare il nuovo catalogo 2023. Dotolo Mobili è sempre vicino ai suoi clienti e sul vostro nuovo arredamento propone un pagamento agevolato a interessi zero, con prima rata del 2024. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta. Ancora non vi basta? Allora facciamo così. Sul vostro nuovo acquisto potete scegliere o una lavatrice o una sciocatrice, in omaggio.